È stato firmato questa mattina all'Aquila il protocollo d'intesa donne e media per promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della regione Abruzzo. A sottoscrivere il documento c'erano il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Maria Franca D'Agostino, il presidente del Coricom Abruzzo Riccardo Chiavaroli, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della regione Abruzzo Stefano Pallotta e il segretario regionale del sindacato dei giornalisti Ezio Cerasi. Oggi abbiamo compiuto un atto molto importante, abbiamo sottoscritto e firmato un documento sul quale si è lavorato per lunghe settimane nel quale il Coricom ha una funzione innanzitutto di coordinamento ma è un documento che vedrà il coinvolgimento della Commissione regionale pari opportunità dell'Ordine dei giornalisti, del sindacato dei giornalisti e di altre strutture che esistono sul territorio e altre si aggiungeranno con un obiettivo molto chiaro, riaffermare la parità di genere, batterci contro i linguaggi che fanno discriminazione nei mezzi di comunicazione e di informazione e affermare una politica di nuovi diritti per gli uomini e per le donne. Per noi si tratta di dare attuazione, l'abbiamo già cominciato a fare da diverso tempo, il nostro testo unico che recepisce integralmente il rifiuto del linguaggio discriminatorio nei confronti delle politiche di genere, nei confronti delle donne e quant'altro. La proposta operativa che noi abbiamo avanzato questa mattina è quella di dotare proprio un organismo operativo che possa attuare a questo protocollo una sorta di osservatorio sui mezzi di informazioni sulla comunicazione, sul linguaggio usato nella narrazione, delle violenze, delle situazioni che in qualche modo vedono coinvolte le donne e su cui noi ci stiamo battendo ormai da diversi anni per cercare di dotare i nostri colleghi, i giornalisti di un riferimento, un quadro culturale diverso rispetto ai stereotipi che fino ad oggi hanno caratterizzato invece la narrazione sbagliata delle violenze e quant'altro. In Abruzzo mancava un documento che potesse normare e comunque disciplinare le problematiche di genere valorizzando appunto le differenze di genere e allo stesso tempo contrastare ogni tipo di stereotipo di genere e praticamente attraverso questo protocollo si intende con una comunicazione attenta al genere e responsabile contrastare tutti questi fenomeni di discriminazione e nello stesso tempo cercare di valorizzare e dare un contributo per la crescita e la sensibilizzazione nei confronti della collettività del rispetto dell'identità di genere con riferimento sia al linguaggio che all'immagine femminile che molte volte non viene diciamo viene prospettata in una maniera non consona quindi attraverso questo protocollo vogliamo appunto far sì che vi siano sia un'attività di formazione che un'attività di divulgazione e allo stesso tempo un monitoraggio di quello che può essere nell'ambito della di quello della nell'ambito della regione abruzzo di quello e di tutte le problematiche di tutti gli eventuali episodi di stereotipi che dovessero verificarsi